ben trovati a tutti quanti voi vi invito ad iscrivervi al mio canale youtube Sergio Vesic ad attivare la campanella delle notifiche e se volete anche la mia pagina facebook ve ne sarei molto grado in questo momento facciamo il punto della situazione odierna naturalmente mai dimenticando l'inchiesta farlocca che sta portando avanti la procura di torino tesa a dimostrare che la juventus falsificava i bilanci dimenticandosi probabilmente che per sanare i bilanci ha immesso grazie all'exor 700 milioni di euro in in tre anni ma questo di questo nessuno ne parla la notizia del giorno è quella della superlega una superlega che diciamo oggi segna un punto particolare ma avremo modo di parlare però parliamo anche della finale che si svolgerà domenica sera quella tra argentina e francia francamente se la discussione è se ad anio no fa la telecronaca ci lascia interdetti perplessi e particolarmente basiti non fosse altro perché se la notizia può essere che se ad anni fa la telecronaca o no ma ancora è possibile che noi diamo dietro ad ad anni cioè uno che ha fatto diventare le telecronache con il telecronista tifoso non esiste più il telecronista terzo in una partita dell'argentina fino a quando non toglieranno questo ad anni di mezzo vogliono ad anni che tifa per l'argentina che strombazza che fa il pagliaccio l'argentina se lo tenessero pure ci mancherà chi se ne fotte di ad anni chi se ne frega di un personaggio fallito strafallito e che per tenersi su deve attaccare allegri e forse lì probabilmente ci azzecca e arrambicarsi agli specchi di messi perché uno che su tutta la linea totalmente viene sconfitto dall'italiano dalla sintassi dal modo di parlare da come si presenta cioè uno chissà chi lo raccomanda questo qua no e allora anche il fatto che lui si appenda messi vuole essere conformista rispetto diciamo ad una tendenza perché adesso è nuovamente tendenza la tendenza di messi cioè vogliono dimostrare che esistito messi nel calcio mondiale e non c'è stato nessun altro più quando vai a vedere questo qui è il più è frutto della corruzione mondiale messi perché francamente fargli vincere tutti quei premi e quindi azzerando la stampa azzerato gli altri ha fatto vincere i premi a messi significa che si è andata a senso unico e che francamente si voleva andare verso il pensiero unico cosa che io non mi sono mai sorbito perché a me me ne sbatte di messi di ronardo di braimovic e via dicendo rispetto ad un calcio diciamo letteralmente ridimensionato rispetto al passato e quindi per me i veri calciatori erano quelli di una volta questi sono dei calciatori che in quell'epoca ma lo dico a tutti i livelli in quell'epoca non giocavano manco in serie c è inutile che poi venite a scrivere sotto sotto al video non puoi dire che messi perdi di credibilità nessuna credibilità perde di credibilità chi come Adani vuol far emergere la figura di messi che è un giocatore lo ripeto lo ribadisco e chiedete quelli della mia età ai tempi di Platini di Maradona sempre Maradona su tutto Maradona su tutto Platini e gli altri giocava in serie c io ricordo tantissimi giocatori di quel periodo giocare in serie c ed emergevoli anche perché là si marcava uomo con un raddoppio di marcatura la triplica marcatura il messi con un raddoppio di marcatura non faceva manco 20 metri andate a valutare il calcio andatelo a vedere se volete parlare di un certo livello se venite a scrivere perché siete tendenziosi come Adani e allora con me non ci ha pezzato niente ve lo dico chiaramente. Detto questo si discute chi fa la telecronaca di Adani e non Adani io ritengo ma l'ho detto 20 giorni fa che si sta portando avanti il discorso per farlo vincere questo camminato mondiale all'Argentina e l'arbitraggio di Orsato uomo che vi ho detto tante volte facilmente corruttibile ma non con i soldi ma con le tendenze interne a settore arbitraria alla FIFA con un collina designatore e con altri è evidente che gli sponsor sono dunque dalla parte di Messi e anche gli arbitri vanno dalla parte di Messi perché io ho visto insieme con Schillaci l'ho vista il primo tempo della semifinale con la Croazia francamente ho visto un Orsato dirigere a senso unico per far vincere l'Argentina dando il vero che tempo è finito 2 a 0 con un rigore dato all'Argentina inesistente e nessuno lo dice perché tutti quanti sono sotto al soldo degli sponsor è inutile che ci dà intorno e allora io vi potrei parlare per tre mesi di seguito su queste vicende qua. I soldi si comprano tutto, si comprano televisioni, arbitri, i disegnatori, si comprano tutti e allora dato che vogliono far vincere questo mondiale a Messi hanno portato dunque Orsato a dirigere la semifinale nessuno parla che nel primo tempo Orsato ha letteralmente disegnato il 2 a 0 dell'Argentina perché fra l'altro a mio avviso c'è anche fallo sul secondo gollo ma non voglio entrare in queste vicende andiamo a parlare della superlega la superlega oggi ho sentito titoli di giornale di siti i soliti urlatori di professione è il nostro amico il nostro amico av sim out perché sono andato a sentire ho sentito i primi 5 minuti poi francamente mi dà proprio fastidio quando parla mi infastidisce e allora come credo infastidisca voi fra l'altro vedo che il suo canale ha quasi 70.000 follower quasi tutti comprati ed è presto detto mi sono andato a vedere anche perché diciamo perché ormai sono entrato su youtube mi piace andare a valutare certe cose gli ingressi quando adesso parla della Juventus 5-6.000 ingressi quando parla perché non ci sono i tifosi della Juve quando invece parla contro la Juve arriva 12.000 15.000 22.000 quando parla contro la Juve quando invece parla per la Juve 5-6.000 7.000 crollato totalmente il rapporto se hai 70.000 follower 70.000 segui come puoi avere 6.000 6.000 che hanno visto il video perché sono stati comprati sono follower comprati è una cosa facilissima si comprano i follower e però poi non ti seguono perché poi da 70.000 fai 6.000 7.000 massimo 9.000 cioè su 60.000 che ammettono mi piace no 30.000 40.000 devono seguire e allora tutti quei follower tutti questi youtuber che presentano 80.000 90.000 70.000 mi piace questi sono tutti comprati come fanno su instagram io per esempio ne tengo 4-5.000 me ne frega proprio quando ne tengo ma io ma lungi da me di andare a comprare un solo un solo seguaci vi ringrazio tutti coloro infatti io vi invito a mettere abbonate no abbonate perché qui non si abbonate nessuno iscrivetevi al canale però qui non si comprano c'è qualche youtuber che non li compra però tutti gli altri li comprano tutti per vedere chi ne ha di più ma che caspita ve ne fotte chi ne ha di più ma che dovete vincere la mucca carolina perché poi fate la fine di avzi maut il quale ne compra tantissimi e si ritrova con un pugno di mosche perché poi dice cazzate fesserino ne ha indovinato una una indovina come adani indovina soltanto allegri perché allegri purtroppo è quello che ha fatto rinascere anche gli invertebrati più invertebrato di quando è lui e allegri praticamente è quello che facilmente attaccabile i tifosi della juventus ormai quasi tutti hanno capito l'inadeguatezza di questo allenatore e quindi adani e cassano ci fanno la bobo tv avzi maut cresce diciamo nei consensi per quanto riguarda allegri e via dicendo e invece poi vediamo con un pugno di mosche quando non si parla di allegri adani e cassano non è a secca e mezza a nessun livello avzi maut deve è costretto a diventare a far ritornare ad essere anti juventino come sempre stato e quindi arrivare ai suoi 22 mila e nello stesso momento poi torna a parlare diciamo delle vicende di casa juve e crolla crolla perché giustamente poi il tifosi della juventus li puoi fregare una volta e mica li freghi sempre e allora tutti questi follower gombrati poi alla fine servono soltanto a diciamo consolidare un lavoro di youtuber e di tutto rispetto certo a me quando mi dicono che sono uno youtuber non è che mi fa molto piacere cioè mi fa piacere figuriamoci perché uno che si mette su youtube diventa uno youtuber chi si mette sui blog un blogger e via dicendo ma è giusto che questa questa dicitura possa andare avanti però naturalmente una cosa è prendere per culo la gente un'altra cosa cercare di dare un'informazione quanto meno corretta e allora veniamo a parlare della superlega vi aspetto giusto fra un minuto allora oggi si è dunque espresso l'avvocato che diciamo di primo acchitto ha scritto le regole fifa uefa in base alle quali qualsiasi nuova competizione soggetta ad approvazione preventiva sono compatibili con il diritto della concorrenza dell'unione europea quindi ha fatto capire praticamente che la uefa e la fifa possono avere il monopolio cioè in sostanza questo le parole di questo avvocato che sottolineano come le regole dell'uefa e della fifa che danno il diritto di impedire ai club di unirsi ai campionati separatisti stile superlega che accetteranno di giocarli chi accetterà di giocarli sono naturalmente sottoposti a dei a delle sanzioni fin qui ci siamo non un parere però che non rappresenta una conclusione vincolante ai fini della sentenza del tribunale dell'ue attesa per aprile 2023 che solitamente non si distacca molto rispetto a queste l'uefa naturalmente candone vittoria come candone vittoria i giornali candone vittoria youtuber candone vittoria diciamo coloro che non sono d'accordo con la superlega però attenzione perché adesso arriviamo al punto a sostegno della nostra missione dice l'uefa centrale di governare il calcio europeo proteggere la piramide sviluppare il calcio in tutta europa ma dopo che è uscita diciamo questa circolare secondo la quale appunto la uefa e la fifa non possono avere il monopolio perché quello si dice il senso che chi se ne va dall'uefa e dalla super della fifa non può partecipare ai ai alle competizioni uefa e fifa questo vi hanno detto in pratica se la juventus il barcelona real madrid vogliono fare la superlega non possono partecipare né alla champions league né all'europa league e naturalmente probabilmente questo però tocca poi la federazione interna ai campionati delle loro nazioni ma su questo io non ne sarei sicuro perché oggi non c'è scritto da nessuna parte non si può partecipare a due dunque competizioni europee su questo ha dato ragione l'avvocato diciamo all'uefa e alla fifa ma la sentenza come avete sentito arriverà in primavera quindi se uefa perdono se juventus real madrid e barcellona vogliono formare la superlega ne hanno pieno diritto però poi devono subire le sanzioni dell'uefa e della fifa mi spiego meglio e poi chi se ne va dalla superlega nella superlega praticamente se ne fotte che la fifa che l'uefa gli dà la sanzione mi spiego la juventus decide di partecipare alla superlega l'uefa la sanziona gli ammette a non partecipare ma se va a partecipare alla superlega che se ne fotte di partecipare all'uefa cioè è così chiaro ed evidente oggi abbiamo saputo che l'uefa ha ragione sulle sanzioni cioè può sanzionare una società che se ne va ma una società che se ne va se ne frega delle sanzioni perché se ne va non so se mi sono spiegato la juventus decide di partecipare alla sua superlega arriva la deva gradatoria juventus è esclusa è giusto non si può partecipare a due competizioni cioè hanno tutto il diritto di fare la superlega ma devono uscire dall'uefa a questo punto cosa si verificherà non adesso ma prossimamente che se la superlega davvero nascerà come deve nascere la superlega può davvero togliere di mezzo l'uefa candone vittoria e che candone vittoria cioè candone vittoria rispetto al fatto che non ci può essere in Europa la Champions League l'Europa League la Conference Cup e altro che organizzata dall'uefa ma ci può essere la superlega poi probabilmente ma su questo ancora dobbiamo entrare nel merito probabilmente i giocatori che vanno a partecipare alla superlega potrebbero essere esclusi dalle nazionali perché c'è la FIFA perché ora si parla di UEFA e FIFA ma su questo ancora non si sono espressi la tendenza è quella ma non si sono espressi quindi ripeto perché poi fanno fine di non capire oggi un parere non vincolante ma sicuramente indirizzante è quello che l'uefa può sanzionare chi se ne va in superlega questo in sostanza in serata poi è arrivata la risposta di A22 Sport che ha pubblicato un comunicato in parere dell'avvocato UE cioè quello che ha espresso il parere prima sulla superlega con le parole di Richard Seo della società A22 Sports la nota scritta in risposta all'avvocato dell'Unione Europea perché ricordo quell'avvocato adesso il nome non ce l'ho sotto è un avvocato che fa parte dell'Europa dell'Unione Europea e l'Europa diciamo così sotto questo aspetto ha dato ragione all'UEFA che può sanzionare chi se ne va in superlega nel caso di European Super League Company cioè la superlega contro UEFA FIFA Atanasian Atanzios Rantos avvocato generale della Corte di Giustizia Unione Europea Cigüe oggi ha espresso è questo il nome dell'avvocato c'è scritto appunto nella nella declaratoria della dell'A22 Sports ripeto Atanzios Rantos oggi ha espresso il suo parere consultivo non vincolante come già vi ho detto ha affermato che la UEFA è dominante persino monopolista organizzatore di tutte le principali competizioni europee per club e ha una responsabilità speciale per garantire a terzi sia indebitamente negato l'accesso al mercato Atanasian l'avvocato ha dichiarato che le condizioni di accesso al mercato devono essere chiare obiettive e come dettaglio possibile in modo che gli organizzatori di concorsi di terze parti siano in grado di rispettarli per eventuali organizzatori di terze parti che soddisfano queste condizioni la federazione in questione non dovrebbe negare l'accesso in particolare la UEFA non può tener conto del proprio interesse personale in nessuno iter autorizzativo infine anche le società e i calciatori interessati devono poter conoscere in anticipo le condizioni previste le condizioni ripeto previste cui possono partecipare ai venditi di terzi e le sanzioni a cui potrebbero incorrere a causa di loro effetto deterrente le sanzioni devono anche essere sufficientemente chiare prevedibili e proporzionate da limitare ogni rischio di applicazione e arbitrarla Bernard Rechers di A22 Sports Manager ha dichiarato l'opinione dell'avvocato generale è un passo in un caso in corso e siamo soddisfatti del riconoscimento del diritto di terzi a organizzare competizioni paneuropee per club l'avvocato generale ha chiarito che la UEFA ha una posizione monopolistica che comporta importanti responsabilità per consentire a terzi di agire liberamente naturalmente sul mercato tuttavia crediamo ai 15 giudici della grande camera a cui è affidata la responsabilità di esaminare questo caso che andranno sostanzialmente o che andranno sostanzialmente oltre e offriranno l'opportunità che i club gestiscono in proprio il destino in Europa A22 è co-ricorrente nella cosa contro UEFA e FIFA in attesa di una sentenza definitiva del CGU nella primavera del 2023 A22 ha avviato un dialogo esteso con un gruppo concreto di calcioparti interessati nell'ottobre del 2022 l'obiettivo è facilitare lo sviluppo di uno sport sostenibile modello per le competizioni europee per club che rifletta i migliori interessi a lungo termine e reciproci dei tifosi e la più ampia comunità calcistica questo dialogo con le parti interessate è necessario per prepararsi a tutti i potenziali risultati nel processo legale in corso a seguito della sentenza definitiva della CGU quella che ci sarà ad aprile le società calcistiche devono essere pronte a prendere le loro decisioni interessi nelle proprie mani e sostenere una struttura di governanza e concorrenza che sia pienamente conforme al diritto e ai principi dell'Unione Europea A22 Sports Management è una società che è stata costituita per sponsorizzare e assistere alla creazione della Superlega Europea nella sua funzione consultiva A22 si concentra sulla struttura complessiva operativa e gli aspetti finanziari della potenziale nuova competizione la Superlega si poteva fare prima e si può fare ora come potete vedere quindi sgombriamo il campo dagli equivoci la diciamo frase comunicato dell'avvocato dell'Unione Europea dice una cosa ma non dice che la Superlega non si può fare tutti questi giornali i ciarlatani di turno di corte e soprattutto coloro che pur di andare contro Andrea Agnelli parlano di sconfitta della Superlega ancora una volta sono fuori pista fanno disinformazione bisogna dire tutto dire una parte dire l'altra come ho fatto io ho aspettato in serata per comunicarvelo perché sapevo che doveva uscire la replica della Superlega e replica c'è stata e nel contesto generale l'Unione Europea ha detto sì che può essere monopolista l'UEFA è in sostanza la FIFA ma non ha detto che la Superlega non si può fare è chiaro può sanzionare ma chi decide di fare la Superlega se la va a fare è come per esempio dunque ve l'ho detto già prima la Juventus se ne va dall'UEFA va a fare la Superlega la Superlega l'UEFA la sanziona la strometta e certo quindi si è andata a fare la Superlega è già diciamo conseguenziale la punizione alla Juventus si autopunisce dall'UEFA e si mette nella Superlega io spero di essere stato chiaro io spero di avervi detto ancora una volta la verità completa non si parla ancora di federazioni non si parla delle federazioni diciamo singole tipo Italia Francia Inghilterra e via dicendo perché sono le società che devono decidere come avete sentito in coda al comunicato che potete leggere ovunque su internet io ve lo invito a leggere su calciogol.it dove c'è tutta la declaratoria è altro mio sito di riferimento quindi attenzione perché la Superlega prende piede anzi oggi quella che doveva essere la sentenza di cui tutti hanno parlato in maniera diciamo catastrofica ancora per andare contro Andrea Agnelli e guarda un po' proprio oggi ha avuto chiarezza della propria posizione si muoverà chi vuole fare chi vuole fare la Champions League se ne va con l'UEFA chi vuole fare la Superlega se ne va con la Superlega organizzata dall'A22 Sports Management avete sentito spero che sia chiaro spero che i ciarlatari di turno li mettete in un canduccio non li andate a sentire perché vi dicono bugie vi dicono quello che vogliono loro d'accordo alla prossima e vi ringrazio vi ringrazio sempre per aver seguito